Ancora non si parla di fuga da Larezzo ma poco ci manca. Paolo Lomastoni, Cora Strambelli e Ciro Foggia, nonostante l'intenzione della società di mantenere i contratti in essere, hanno chiesto ad ottenuto di lasciare la squadra Maranto. A partire da oggi infatti i tre calciatori non fanno già più parte della Rosa a disposizione di Mr. Mariotti, avendo ottenuto l'interruzione dei rispettivi accordi contrattuali. Lo ha comunicato Larezzo con una nota ufficiale. Lomasto in questa stagione aveva segnato due gol, Foggia 4 e Strambelli 9. Lomasto e Foggia si trasferiranno a Cava dei Tirreni, Strambelli passerà alla Cerignola. Nel giro di sei mesi sono stati ceduti dieci giocatori tra i nomi dei trasferiti, ricordiamo anche Marchetti, Panatti, Aliperte e Sparacello. In arrivo invece sembra Riccardo Doratiotto, classe 99, che ha appena rescisso il contratto con il Montevarchi. Potrebbe arrivare anche l'attaccante Giulio Camarlinghi, classe anche lui 99, pratese in forza alla Pro Livorno con 13 presenze e 3 gol.